Una delle cose più preziose che tu vorresti insegnare? Mi serve riuscire a insegnare una cosa che purtroppo non sono mai riuscito a insegnare, che è quella di trovare il modo più efficace di approcciare i problemi. Oggi stavo facendo un lavoro di consulenza alla multinazionale canadese, dall'altra parte è arrivato un problema molto importante, noi non riusciamo a fare la migrazione, cioè a trasferire dalla foresta italiana alla foresta canadese delle macchine e queste macchine non riuscivano ad essere viste. L'esperienza mi ha detto ragazzi, avete semplicemente controllato se il remote registry è avviato sulle macchine, il servizio di remote registry è avviato sulle macchine. Fatalità non era avviato, cioè è stata una cosa che in 5 minuti abbiamo risolto quando si potevano impiegarci delle ore o anche addirittura una giornata. Queste sono le cose che danno soddisfazione, che purtroppo non riesci ad insegnare perché sono frutto dell'esperienza.